Parigi come Washington, accelera l'exit strategi dall'Afghanistan nell'anno delle presidenziali. A sorpresa in visita dalle truppe francesi sul campo in una base avanzata nella regione di Surobi e a Kabul dal suo omologo Hamid Karzai, il presidente Sarkozy ha annunciato il ritiro di circa 1.000 dei 5.000 uomini di Parigi entro la fine del 2012. Sulla scia dell'accelerazione del ritiro statunitense, a fine giugno Sarkozy aveva anticipato di voler fare altrettanto, senza però dettagliare tempi e cifre. Recenti sondaggi mostrano come dalla morte di Bin Laden la maggioranza dei francesi sia favorevole a stringere i tempi del ritiro.